L'agenzia governativa statunitense che si occupa della sicurezza nazionale sospenderà la raccolta di dati telefonici. Il Senato non ha trovato un accordo per prolungare l'autorizzazione del Patriot Act che permette di intercettare le comunicazioni degli statunitensi. Ad opporsi è stato Rand Paul, candidato alla Casa Bianca ed esponente del Partito Repubblicano che controlla sia la Camera che il Senato. Dobbiamo rinunciare alla nostra libertà come se nulla fosse successo? Abbiamo intenzione di lasciar fare senza dire nulla? Io in ogni caso non posso accettarlo e credo che anche gli americani non vogliano accettarlo. Il Senato deve ancora approvare la nuova legge, Freedom Act, già passata alla Camera che contiene una riforma del sistema di sorveglianza messo sotto accusa dopo le rivelazioni di Edward Snowden. Per non creare un vuoto si sarebbe dovuta estendere l'autorizzazione del Patriot Act. La Casa Bianca ha bollato come irresponsabile il comportamento del Senato.